Un'unione importante dove finalmente siamo riusciti a mettere insieme il Governo e il Regione Lazio dove entrambi si sono presi dei precisi impegni per cercare di portare finalmente a conclusione di questa difficile situazione per i circa mille lavoratori della provincia. Nei prossimi giorni dovremo riconfrontarci con la Regione nell'attesa che nell'ambito della discussione della finanziaria il Governo possa impegnare delle risolte importanti per risolvere questo problema. Per quanto riguarda tutto l'investimento sociale che era stato già paventato nella riunione di settembre oltre ai termini finanziari c'è un rinserimento sociale di tutti i disoccupati e immobilizzati? Noi vogliamo fortemente collegare l'utilizzo degli ammortizzatori sociali a quelle che sono le politiche attive. Sulla provincia di Frusinone c'è un accordo di programma che è stato sottoscritto lo scorso mese e proprio in virtù di questo siamo fortemente motivati a continuare ad accompagnare questo processo di riindustrializzazione dell'area provincia di Frusinone. Perfetto, grazie mille. Grazie.